Quando la rotatoria è in via Camillo Rosalba ad angolo con Escrivà? Sì, quella rotatoria è una rotatoria importante, lo è soprattutto alla luce dei nuovi lavori che sono in corso e mi riferisco al collegamento tra la rotatoria, quella tra Mazzitelli, Matarrese e Escrivà e via Tatrella. E' prevista non solo la rotatoria in corrispondenza di Camillo Rosalba ma ancora prima il raddoppio di via Escrivà perché il tratto di via Escrivà attuale è un tratto che ha soltanto due corsie di marcia che recentemente abbiamo reso utilizzabili una per ogni senso di marcia, prima era monodirezionale altrimenti avremmo avuto un giro pazzesco con l'apertura della nuova rotatoria che è un allargamento della rotatoria a cui facevo riferimento tra Matarrese, Mazzitelli e Escrivà che dovrà avere necessariamente un diametro maggiore. Sono lavori che stiamo progettando, verosimilmente saranno cantierizzati nel 2024, secondo semestre o 2025 ma sicuramente dopo il completamento di questi lavori che invece sono in atto e che derivano dalla chiusura dei passaggi livelli di Via delle Murge e di Santa Caterina ci hanno permesso di creare tutto un nuovo sistema viario grazie al quale il quartiere Poggio Franco può addirittura immettersi direttamente con l'asse nord-sud, circostanza che prima non avveniva. Grazie. Grazie.